Domani sarà festa per la redazione sportiva di Antenna del Mediterraneo. Alle ore 20 di giovedì 22 luglio la splendida location del porto turistico di Capodorlando farà da cornice alla Kermessa M Sports Awards Sergio Granata. Un nuovo format alla sua prima edizione per una cerimonia che sarà occasione per rendere un doveroso omaggio al nostro compianto direttore, prematuramente scomparso il 15 maggio del 2019. La serata condotta da Fabio Todaro e dai giornalisti Maria Elena Calio e Raffaele Valentino sarà dedicata agli atleti e alle squadre del territorio che si sono contraddistinti durante l'ultima stagione sportiva. Verranno premiate tra le altre realtà eccellenti come la CR Messina, l'Orlandina Basket, la Cestistica Torrenovese e l'FC Messina ma anche i protagonisti dei due gironi di eccellenza siciliana, due club di volley e atleti del calibro di Antonio Trio e Carmelo Calabrò. La cerimonia sarà poi trasmessa indifferita nei prossimi giorni da Antenna del Mediterraneo, canale 14 del Digitale Terrestre Sicilia.